Quando Gesù ha dato, diciamo, una particolare tipo di rivelazione a Giovanni, perché il libro dell'Apocalisse è una rivelazione che Gesù ha data a Giovanni. Tra le cose che ci sono in questo libro della rivelazione, ci sono anche delle cose che Gesù manda a dire tramite Giovanni alle sette chiese. In particolare, che cosa gli dice di fare Gesù a Giovanni? Gli dice di scrivere all'angelo di quella chiesa. In una di queste chiese Gesù dice che conosce il tuo ministerio. Siccome questi angeli erano il conduttore responsabile di quella comunità, possiamo dire, non c'è scritto chiaramente, ma potremmo dire che quell'angelo a cui si riferisce Gesù è il pastore di quella comunità, colui che è il responsabile, che ha l'incarico di far andare le cose come devono andare. Va bene? Questo è un discorso di premessa generale. Tra le chiese c'è anche quella di Tiatiri. Capitolo 2 di Apocalisse, dal versetto 18, Gesù dice a Giovanni di scrivere queste parole all'angelo della chiesa di Tiatiri. Queste cose dice il figliol di Dio, noi sappiamo che il figliol di Dio è Gesù, che ha gli occhi come fiamma di fuoco, i cui piedi sono come terzo rame. Io conosco le tue opere, e il tuo amore, e la tua fede, e il tuo ministerio. Ah, ecco, lo dice proprio qui, quello che vi dicevo, che siccome, e qui deve scrivere all'angelo della chiesa di Tiatiri, e fa Gesù riferimento proprio al suo ministerio. Gesù lo conosce, perché i ministeri vengono distribuiti da Gesù Cristo. Quindi qui non si sta parlando di un ministerio falso, eh, attenzione. Si sta parlando di un vero ministro che Gesù ha costituito e ha messo nella chiesa di Tiatiri affinché la guidasse nelle cose che doveva essere guidata. Nel riprendere, correggere, dare il messaggio ai ministri, non solo a quello di Tiatiri, ma anche agli altri, voi avrete sicuramente notato che Gesù non comincia con le cose negative, ma bensì comincia con le cose positive. Va bene? Quindi quando noi dobbiamo parlare è preferibile, no? Quando dobbiamo correggere qualcuno, sarebbe bene considerare non solo le sue cose negative che ha fatto, ma perché non ricordarci anche delle sue cose positive? Così da essere giusti nel valutare le cose, capite? Quindi anche su questo il Signore ci ammaestra, ci insegna come dobbiamo fare. Quindi quando dobbiamo correggere qualcuno, attenzione, per non ricadere sempre nella spietatezza, sempre nella mancanza di misericordia nel valutare le cose, dobbiamo sempre ricordare tutta quella persona, chi è, cosa ha fatto e qual è la sua situazione, in maniera che quando arriveremo a dirgli, a correggerlo per una certa cosa, noi saremo più giusti possibile nel farlo. Non abbiamo tralasciato anche le cose buone che ha fatto, no? Così questo è l'insegnamento che il Signore ci dà, uno degli insegnamenti che il Signore ci dà attraverso queste sette lettere. Quindi lo stiamo leggendo e io ve lo riferisco. Gli dice, siccome Gesù lo conosceva, questo ministro, conosceva questa persona, chiamiamolo il pastore senza temere, anche se non c'è scritto chiaramente, però un ministro che conduce la comunità è più probabile, e la cosa più probabile è che sia il pastore. Quindi possiamo tranquillamente considerarlo anche come il pastore della comunità di Tiatiri. E Gesù gli dice questo, che conosceva queste cose di quel pastore, gli dice, io conosco le tue opere. Vuol dire che questo pastore le compiva le opere, le faceva, e Gesù le conosceva, non le ha tralasciate. Vedete, inizia proprio dalle opere. Se uno non ha opere, Gesù gli avrebbe detto, tu non hai opere. Non poteva mentire Gesù dicendo che tu hai fatto delle opere. Le conosco le opere che tu hai fatto. Capite? Vuol dire che quel pastore aveva delle opere. quel ministro di Dio. Conosco le tue opere. Conosco il tuo amore. E conosco la tua fede. Addirittura, cioè, tutte cose che sono positive. Attenzione, sono cose positive queste. Che Gesù conosceva che aveva amore, conosceva che aveva fede, conosceva che faceva delle opere. Addirittura dice che il tuo ministerio è la tua costanza. Quindi, voglio dire, lo approva nel suo ministerio. Viene approvato. E conosceva anche la sua costanza. Vedete? Era perseverante nelle cose del Signore. Cosa dice ancora? E' che le tue opere ultime sono più abbondanti delle prime. Cioè, vi rendete conto? Sono tutte cose molto positive di quel pastore. Però, però, c'era anche qualcosa che non va bene. Cioè, dobbiamo essere giusti. Se una persona... Questo rientra proprio anche nei casi che sta succedendo anche tra di noi. Uno può essere il miglior ministro di tutti. Va bene? Ma se ha qualcosa che non va bene, va corretto. Capite? Va corretto. Gesù ce lo dice qui. Vedete? Aveva tante cose che andavano bene. Il pastore di Tiatiri. Ne aveva tante. Però ne aveva anche alcune che non andavano bene. E Gesù lo fa notare. Quindi anche noi, nella dovuta maniera, considerando anche le opere buone di quelle persone, ma quando c'è da correggere qualcuno, bisogna farlo. Altrimenti incorriamo nella... Cioè, il Dio non ci giudica bene. Capite? Come poi succede a questo pastore, a questo ministro della chiesa di Tiatiri. Quale cosa ricorda che non andava bene Gesù al ministro di Tiatiri? Gli dice Ho questo contro di te, contro a te. Che tu tolleri quella donna Jezebel, che si dice profetessa, e insegna e seduce i miei servitori, perché commettano fornicazione e mangino cose sacrificate agli idoli. Quale era l'errore del pastore? Nella sua comunità c'era una pastoressa, scusate, una profetessa. Cosa faceva questa profetessa? Qui non ci dice se fosse inizialmente una vera profetessa oppure no. Non riusciamo a distinguerlo, perché noi, conoscendo dalla somma della parola che è un ministro di Dio, si può anche sviare dopo. Qui, diciamo, rimaniamo in sospeso, non sappiamo, perché qui dice non la chiama proprio falsa profetessa, però che lei si dice profetessa. Va bene? Si dice profetessa, lei si definisce profetessa. Quindi se noi prendiamo questa considerazione può anche darsi che sia una falsa profetessa, cioè che lo sia sempre stato. Va bene? Però non lo vogliamo dare come perché è possibile anche che per un certo tempo quella donna fosse stata veramente una profetessa. Va bene? Quindi io preferisco pensarla così, però questo vi lascio il margine di scelta. Può essere anche una falsa profetessa che non è mai stata una vera profetessa. Non si riesce a definire. Ma la questione comunque che riguarda il discorso che stiamo facendo non riguarda il passato, perché si guarda sempre all'attualità. Cioè quando Gesù diciamo interviene, vedete, nel valutare una persona, valuta in quel momento. Noi se il Signore ci appare, ci deve valutare, ci valuta per quello che siamo adesso, non per quello che eravamo dieci anni fa. Infatti nei profeti cosa leggiamo? Nei profeti leggiamo che nel giorno della trasgressione la giustizia del giusto non sarà ricordata. così come il peccato dei trasgressori, degli empi, quando vengono salvati non saranno ricordate più le azioni malvagie che hanno compiuto. Quindi quello che conta è l'attualità, capite? l'attualità del momento, il passato, è passato, il passato è passato, quello che è stato fatto è stato fatto, se è stato fatto il male devi chiedere perdono, se è stato fatto il bene devi continuare a farlo. Non è che io per trent'anni ho fatto il bene, adesso mi fermo e posso vivere pensando al bene che ho fatto prima e adesso non lo faccio più. No, perché è una cosa che Gesù nota, fa attenzione Gesù a queste cose. Infatti l'abbiamo letto, ha detto le tue opere ultime sono più abbondanti delle prime, vedete? Quindi lo sta elogiando per una parte lo sta elogiando al pastore, capite? A questo ministro. E quindi Gesù ricorda che male faceva quel pastore perché ha citato tutte le cose buone però gli cita che cosa faceva? Tollerava. Tollerava la presenza di quella donna nella sua comunità. La tollerava perché cosa tollerava? Cosa faceva questa donna di sbagliato? Si diceva profetessa e qui possiamo intendere che in quel momento non lo era profetessa da Dio e infatti poi capiamo anche perché si capisce del resto. Che si dice profetessa? e insegna e insegna vedete insegna che cosa? Qui non è che insegna a cucinare ad altre sorelle o a cucinare alle altre persone. Sicuramente qui insegna si riferisce alle cose di Dio profetessa profetessa insegna a che cosa si stiamo ancora oggi? A una lotta continua che c'è dentro le chiese ad una lotta che c'è continuamente sul fatto che la donna può insegnare o non può insegnare. Ecco qui Gesù Gesù riprende quel pastore perché tollerava il fatto che ci fosse presente quella donna che si faceva chiamare profetessa e che insegnava insegnava e questo Gesù lo segna come una cosa negativa per quella donna negativa per il pastore perché negativa per il pastore perché tollerava cioè sopportava faceva passare come nulla come così impunemente tollerava permetteva che certe cose succedessero nella sua comunità capite questo era il peccato il peccato di quel conduttore di quel pastore di quel ministro era quello di tollerare lui non lo faceva quei peccati ma li tollerava capite e questo viene addebitato da Gesù come errore a al pastore della chiesa di Tiatiri gli viene addebitato come errore come sbaglio cosa faceva ancora questa donna questa donna di cui si conosce anche il nome Jezebel quindi diceva di essere profetessa insegnava e poi seduceva i miei servitori i servitori del Signore perché commettano fornicazione vedete quindi in qualche maniera quella donna aveva sedotto sedotto quelle addirittura i servitori del Signore affinché commettessero fornicazione quindi anche qui vedete il Signore condanna la fornicazione cioè i rapporti carnali fuori dal matrimonio Gesù non li accetta anzi li considera una cosa grave dopo vediamo e dice perché commettano fornicazione e mangino cose sacrificate agli idoli di questo ne parleremo ne dovevo parlare oggi ma diciamo siamo passati a parlare di quest'altro argomento ne parleremo ne parleremo specificamente delle cose perché non ci sono solo le carni sacrificate agli idoli ci possono essere anche altri cibi di tutti i generi che vengono sacrificati agli idoli ecco il Signore non vuole assolutamente non vuole che vi accenno questo vi accenno questo non vuole che si mangino le cose sacrificate agli idoli è una cosa che non va bene capite è che è peccato immagino e che cosa perché commettano seduceva praticamente li ingannavano in qualche maniera li convinceva partendo da un presupposto che fosse una profetessa di Dio sicuramente questo faceva sì che si preparava grazie a quel suo ministerio che presentava di profeta le permetteva questa sua posizione di insegnare sedurre i figlioli di Dio che erano in quella comunità di Tiri le permetteva la sua posizione di ingannare le persone di fargli fare determinate cose sbagliate capite perché purtroppo è così quando a sbagliare ad esempio un ministro se un ministro si mette a insegnare falsità prima insegnava cose giuste poi inizia a insegnare falsità per chi l'ha sempre seguito è difficile accorgersene perché non è che cambia totalmente da bianco a nero dall'oggi al domani passa attraverso tanti piccoli colori paroline qua e là spostate e dopo diventa una manipolazione cioè un inganno finemente trasmesso di soppiato di nascosto capite l'insegnamento passa quello della fornicazione sembrerebbe una cosa di poco conto oppure molto grossolante da vedere ah ma chi è che non conosce che non devi fornicare però io vi ricordo che ci sono ancora oggi gente che fa come Jezebel cioè insegna ai fratelli che una volta che si sono divorziati gli permette di risposarsi e questo è adulterio fornicazione capite quindi c'è proprio un vero e proprio insegnamento un vero e proprio insegnamento a commettere quei determinati peccati capite quindi ci sono ancora oggi queste cose sono scritte per nostro ammaestramento sicuramente tutte queste cose che sono scritte qui nel nelle sette lettere voi le troverete nelle comunità se voi studiate riga per riga ci sono nelle comunità non è che troverete tutti gli errori nella stessa comunità no infatti il fatto che Gesù abbia voluto che si scrivesse alle sette lettere alle sette chiese scusate sette lettere alle sette chiese e tutte presentano una caratteristica diversa cosa ci fa capire ci fa capire che ogni chiesa io parlo delle chiese locali lasciamo stare le denominazioni adesso parliamo delle chiese locali che vanno riconosciute che il Signore per ogni città stabilisce una o più chiese locali queste chiese locali che poi ci devono essere i conduttori ecco in queste comunità sicuramente ci sono tutte queste cose cioè non tutti i peccati descritti nelle sette lettere sono presenti in ogni chiesa quindi ha scritto quelle sette lette però tutte le cose sbagliate che ci sono nelle sette chiese non è che sono presenti tutte contemporaneamente in ogni singola chiesa ognuno avrà delle particolarità quindi noi studiando bene le cose di queste sette chiese sappiamo in parte cosa succede in giro nelle chiese ancora oggi perché badate bene le cose che sono scritte purtroppo succedono ancora oggi non è che sono scritte così sono scritte per nostro ammaestramento perché le cose succedono così ma non solo vedete vedete qui dice questa profetessa insegnava le donne sappiamo che non possono insegnare le dottrine della parola di Dio e c'era questa che insegnava oggi in alcune comunità insegnano le donne sì c'è una spinta una lotta poi dice che seduceva i servitori per farli commettere fornicazione ci sono delle persone che insegnano a risposarsi anche se il primo coniuge è ancora in vita sì ci sono quindi insegnano loro a fornicare a commettere adulterio quindi li lasciano liberi vedete come le cose scritte si adempiono ancora oggi quindi noi studiando le sette chiese già sappiamo le cose che troviamo in giro nelle chiese oggi magari non tutto ma tutto in ogni comunità però qualcosa c'è e le dobbiamo riconoscere per stare lontani dalle cose sbagliate poi dice e mangino cose sacrificate agli idoli anche le cose sacrificate agli idoli vi diciamo oggi ne parliamo in maniera generica poi poi ne parleremo delle cose sacrificate agli idoli ne parliamo un'altra volta in maniera più dettagliata leggendo prima corinzi 8 e 10 capitoli che parlano di queste cose e mangino cose cioè Gesù non vuole che si mangi perché quando tu mangi delle cose sacrificate agli idoli tu hai comunione con chi c'è dietro gli idoli perché l'idolo in se stesso non è nulla ma dietro gli idoli chi c'è cosa c'è ci sono gli spiriti mondi c'è il diavolo se tu mangi un cibo dedicato al diavolo tu hai comunione col diavolo se tu mangi la cena del signore il vino e il pane del signore tu hai comunione con Gesù Cristo capite quindi mangiando i cibi sacrificati agli idoli tu hai comunione col demone che c'è dietro quell'idolo e Gesù questo lo considera peccato e cosa è l'errore di quel pastore qual era il pastore di Piativi era che queste cose lui le tollerava magari non le faceva magari lui non le praticava lui non era un fornicatore lui non era non mangiava cose sacrificate agli idoli però lui non aveva messo ordine a quella comunità in cui era stato messo e ha purtroppo permesso che queste cose venissero insegnate lui anche se non anche il pastore anche se non le ha commesse lui direttamente lui è chiamato a mettere ordine nella comunità e doveva intervenire per tempo capite e infatti Gesù gli ha fatto pervenire questa lettera finché lui mettesse ordine perché la lettera era indirizzata a lui e gli ha fatto sapere Gesù che lui sapeva tutte quelle cose è una lettera molto dura cioè Gesù risuscitato dai morti che fa vedere queste cose e dice a Giovanni di scrivere queste cose adesso andando avanti vediamo quanto è dura questa lettera è durissima avete voluto parlare di questa lettera parliamo di questa lettera e poi dice io le ho dato Gesù no? le ha dato tempo per ravvedersi ma ella non vuole ravvedersi della sua fornicazione capite? cioè lei era una di quelle donne che insegnava a fornicare e commetteva fornicazione anche lei Gesù fa capire che le aveva dato tempo sicuramente in qualche maniera le aveva già già riprese già comunicato che stava peccando e che si sarebbe dovuto ravvedere ma qui dice non ne vuole sapere non ne vuole sapere lo dice Gesù e questo si aggravava la situazione di quella donna come continua ecco cosa allora se quella donna anche dopo la ricezione di questa lettera da parte del pastore poi il pastore sarebbe dovuto andare da quella donna e mettere a posto ogni cosa quindi l'avrebbe dovuta ammonire dire che non avrebbe dovuto più insegnare che non avrebbe dovuto più praticare che se diceva lei di essere profetessa capite purtroppo mentre dei pastori c'è scritto che erano costituiti effettivamente da Gesù quindi non li rinnega anche se erano disordinati alcuni pastori Gesù non ha rinnegato di aver dato loro il ministerio gliel'ha dato però come gliel'ha dato così glielo toglie se non camminano come piace al Signore quello di Tiattiri stava sbagliando il fatto che tollerava cioè non metteva fine al peccato di questa donna e di quello che insegnava e ingannava i fratelli i servitori di Dio e li portava a peccare a mangiare cose sacrificate agli idoli e a fornicare lei stessa fornicava non voleva sapere di ravvedersi e Gesù con questa lettera gli ha detto a Giovanni tu Giovanni scrivi questa lettera pastore di Tiattiri il pastore di Tiattiri così saprà che avrebbe dovuto mettere ordine nella sua comunità quindi avrebbe dovuto agire su quella donna all'estremo avrebbe dovuto cacciarla via non è che poteva mettergli le mani addosso picchiarla o altro no questo non si fa però la disciplina andava praticata doveva doveva intervenire per porre fine a quel tipo di peccato il rischio qual era questo doveva essere si capisce che sarebbe stato l'ultimo avvertimento cioè le ultime parole cioè Gesù aspetta per un tempo quando noi dipende dal peccato se sono peccati gravi il Signore ci dà tempo di ravvederci però una volta che ci dà tempo di ravvederci scaduto quel tempo poi interviene lui e punisce e può essere una punizione una punizione commisurata al peccato che si commette è sempre commisurata il peccato è piccolo la punizione non può essere grandissima capite è sempre commisurata al tipo di peccato adesso il peccato di questa donna che era grave soprattutto la fornicazione dice così ci fa sapere anche cosa avrebbe fatto nel caso lei non si sarebbe ravveduta perché se si sarebbe ravveduta dopo questa lettera allora il Signore avrebbe avuto misericordia di lei cioè vedete quanto è buono il Signore il Signore è misericordioso magari gli ha mandato uno due tre non lo sappiamo quante persone gli ha mandato quella donna che stava sbagliando ma lei non ne ha voluto sapere non ne ha voluto sapere di ravvedersi perché il Signore opera in questa maniera prima ti manda delle persone a parlarti a riprenderti a correggerti te li manda tu li devi riconoscere perché se tu riesci a riconoscere quando vieni corretto ripreso e indirizzato nella via giusta ti ravvedi ti penti chiedi perdono e ti scamperai dalle punizioni che arriveranno dal Signore ma se è scaduto il tempo che Dio ha stabilito il tempo lo stabilisce il Signore non è che c'è tempo possiamo dire un mese un anno non si sa quello che il Signore vorrà quello che il Signore vuole e decide ma scaduto quel tempo che lui si è prefissato e dopo interviene lui e manda le sue punizioni e le sue punizioni adesso leggeremo sono molto gravose a volte molto molto grave ad esempio a questa donna cosa gli dice ecco io getto lei sopra un letto di dolore e quelli che commettono adulterio con lei in una gran tribolazione se non si ravvedono delle opere d'essa quindi non solo lei sarebbe stata messa in un letto di dolore quando uno vuol dire che sarebbe veramente successo qualcosa di molto pesante che l'avrebbe messa a letto non sarebbe più stata libera di muoversi quindi era qualcosa di veramente grave ma non solo a lei ma anche tutti quelli che andavano con lei che seguivano i suoi insegnamenti sbagliati che commettevano adulterie fornicazioni con lei anche loro sarebbero stati tribati se non si sarebbero ravveduti anche loro perché questa lettera poi sarebbe stata forse letta in comunità il pastore avrebbe dovuto parlare con tutti quelli che hanno commesso peccato con lei quindi è una munizione per tutti è un ultimo avvertimento ecco chiamiamolo così questa lettera ti attiri bisogna considerarla come l'ultimo degli avvertimenti per quel gruppo di persone perché poi sarebbe intervenuto direttamente il Signore per punire il peccato che stavano commettendo tra le punizioni dice ancora metterò a morte i suoi figlioli sta parlando di quella donna che commetteva fornicazione metterò a morte i suoi figlioli vedete perché questo passaggio avvalora il secondo comandamento dei dieci comandamenti perché nel secondo comandamento c'è scritto appunto che Dio avrebbe punito i peccati dei padri sui figlioli quindi possiamo dire che siccome Gesù che era morto ed è risuscitato dai morti quindi siamo in piena grazia dice che a causa del peccato che commetteva quella donna i suoi figli sarebbero stati messi a morte è chiaro che siamo in presenza di un passaggio che ci fa sapere che il secondo comandamento del decallogo è ancora valido oggi sotto la grazia non è mutato non è cambiato il secondo comandamento è ancora valido cioè che il peccato dei padri sarebbe caduto sui figli infatti come il peccato lo commetteva quella donna Jezebel lei sarebbe stata punita ma non si sarebbe limitato a punire lei ma avrebbe punito anche i suoi figlioni come con un raffreddore con un qualcuno no li avrebbe fatti morire vedete il dio è buono noi presentiamo il dio come buono e misericordioso però dobbiamo guardare sempre alla somma della parola la somma della parola ci dice che il dio è molto paziente ma anche la sua pazienza contro il peccato ha anche dei limiti cioè nel senso lui la fa scadere capite quindi non bisogna insistere troppo con il peccato perché perché se ci lasciamo andare al peccato di continuo dopo viene il tempo che il signore opera e poi e poi sono cose dure per quanto riguarda la fornicazione è così grave l'adulterio la fornicazione è così grave che tutti i fornicatori e gli adulteri rischiano che gli venga messa a morte la famiglia i figli quindi la cosa è grave cioè la fornicazione dell'adulterio bisogna stare non poco lontani ma lontanissimi se non lo vuoi fare per te stesso che non ti interessa nulla se vieni punito tu sappi che può essere punito possono essere puniti i tuoi figlioli quindi fallo almeno io dico a voi perché poi quando vi troverete a parlare voi farete questo discorso che è giusto che sia fatto in questa maniera se conoscete dei fornicatori degli adulteri io ne conosco molti e devo dire che questa storia che i figli vengono messi a morte si è verificato molte volte non tutti sono morti ma qualcuno è morto giovane e si caratterizzavano sempre il fatto che erano fornicatori e adulteri e io l'ho notato questo ormai c'è tanti anni anche io quasi cinquantasei anni di gente ne ho conosciuto anche prima da quando non ero credente e purtroppo devo riconoscere che la parola si adempia stiamo parlando di gente impenitente però non è che adesso i credenti che hanno chiesto perdono grava anche su di loro questa cosa no perché hanno chiesto perdono quindi tutto è stato cancellato ma di quelli che non hanno il peccato cancellato se non chiedono perdono non si ravvedono rischiano rischiano notevolmente loro rischiano in primis e poi anche i loro figli bisogna stare attenti ci sono peccati gravi non tutti i peccati sono uguali una cosa è dire una parolaccia è una cosa un'altra cosa è commettere fornicazione adulterio magari anche con costanza vuol dire che si un peccatore incallito e se sei anche credente non scamperai e Dio ti dà tempo di ravvederti ma poi non puoi scampare ai suoi giudizi nessuno può scampare non sono riguardi personali non è che sei fatto tante opere prima sei stato bravo prima adesso ti dai alla fornicazione sei a posto no qui non ci sono riguardi personali quindi se voi andate a leggere il secondo comandamento del decalogo vi leggerete vi leggerete che c'è scritto anche che i peccati dei padri ricadranno figli e ora dalle parole che Gesù ha detto agli Ezebel comprendiamo che quel comandamento è valido anche sotto la grazia capite non è cambiato nulla per i comandamenti del decalogo i comandamenti del decalogo sono tutti validi ancora sotto la grazia con una variante per quanto riguarda il sabato anche il comandamento del sabato è valido però il sabato non deve non riguarda una sotto la grazia l'osservanza di un giorno il sabato il giorno del riposo è riferito alla morte che i credenti cioè al riposo che devono ottenere i credenti quando muoiono in Cristo Gesù ecco nel decalogo dobbiamo solo quindi non più osservanza un giorno ma entrare nel giorno del riposo questo concetto lo leggete non mi ricordo in quali capitoli i primi capitoli 3 e 4 di ebrei della epistola agli ebrei viene spiegato che non si parla di sotto la grazia di osservanza di un giorno specifico ma si parla di entrare nel riposo quando si entra nel riposo nel riposo di Cristo Gesù si entra quando si muore quindi noi dobbiamo osservare anche quel comandamento cioè osservarlo come sotto la grazia cioè dobbiamo entrare stando fermi nella fede allora noi troveremo riposo capite troveremo un riposo dopo ci riposeremo per l'eternità adesso qui non ce n'è il riposo mi dispiace non vi posso offrire il riposo riposo spiritualmente del Signore ma qui ci sarà tanta fatica sofferenza perseguzione dolore anche malattie perché devi essere forgiato anche dalle malattie come lo è stato Giobbe come lo è stato Giobbe quindi cioè non tutte le malattie sono segno di peccato eh quello che è stata promessa a Iezabel siccome era fornicatrice quella era un segno era un era dovuto al suo peccato però non tutto quello che ci succede è dovuto al peccato e alcune cose sono anche per metterci alla prova per vedere se preghiamo se ci rivolgiamo subito ai medici se ci inginocchiamo di più per tenerci sempre vivi in preghiera capite ha diversi significati può avere diversi significati le sofferenze e il dolore che passiamo però alcune volte può essere anche per alcuni no può essere anche una punizione come per Iezabel quindi abbiamo visto che quindi abbiamo avvalorato anche il secondo comandamento del decalogo che dice a Pupo che i peccati dei padri ricadono sui figli lo so che magari qualcuno ha studiato ha letto ha letto che nei profeti mi sembra in Geremia o in Ezechiele è scritto che che si viene condannati per il proprio peccato certo perché perché questa regola dei peccati dei padri ricadono sui figli ha un limite il limite qual è se il padre è corrotto e il figlio il Dio gli conde il ravvedimento e viene convertito viene salvato i peccati dei padri è normale che non ricadano sui figli capite cioè non è che è un dobbiamo farne una regola sempre questa è una cosa che succede ma il Signore ha valutato perché se quelle persone i figli di questo malvagio sono stati predestinati da Dio a ravvedersi e a credere è chiaro che Dio non li può far morire capite quindi bisogna mettere insieme tutte le cose e quindi avvaloriamo anche quei passi che vengono citati diciamo nei profeti per quanto riguarda la punizione dei padri che ricadano sui figli però in questo caso che stiamo leggendo della lettera che Gesù ha ordinato che venisse scritta al pastore di Tiatiri le cose saranno andate così perché non aveva intenzione di ravvedersi quindi da quello che dice Gesù qui si capisce che non aveva intenzione di ravvedersi e questo era l'ultimo avviso prima di intervenire lui direttamente Gesù morto risuscitato dai morti è quel Gesù misericordioso e pietoso però giusto anche giusto ti manda gli avvisi te ne manda più di uno ma poi viene il momento che se ti deve punire ti punisce non ci sono riguardi personali dice ancora torniamo ai nostri versetti andiamo al versetto tutte le chiese perché vedete tutto questo poi leggendo quello che Giovanni ha scritto al pastore il pastore è quello che ha riferito poi tutti ne parlavano no? ne avrebbero parlato poi ci sarebbero state quelle punizioni messi a morte la parola di Dio si sarà adempiuta che cosa succede nella chiesa succede questo tutte le chiese conosceranno che io sono colui che investigo le reni ed i cuori e darò a ciascuno di voi secondo le opere vostre vedete vedete questo qui è Gesù che sta parlando e non siamo sotto la legge siamo sotto la grazia quindi Gesù darà a ciascuno secondo le sue opere è per questo che noi vi esortiamo continuamente a praticare le opere cominciando dalle cose basilari che ci vengono presentate magari la preghiera lo studio delle scritture anche il digiuno fare l'elemosina ai poveri quelli che conoscete che siete sicuri che sono poveri perché il Signore balluterà in base alle opere non in base alle chiacchiere che avremmo fatto solo le parole no certo le parole sono importanti una parola di conforto una parola detta al tempo giusto una parola che risolleva ma certo che avrà il suo premio e la sua utilità ma se ci sono solo parole non va bene ci devono essere anche le opere perché di parole tutti hanno parole a tutta forza capite quindi la differenza sta poi nelle opere non non ci sono quelle che magari possono anche parlare bene ma poi le opere mancano e se mancano non va bene il Signore vuole che si facciano le opere poi dice siamo al versetto 24 e ha parlato fino a lì ha ripreso il pastore che tollerava quella donna che faceva quelle cose di cui abbiamo parlato c'erano quelli che la seguivano e facevano il male con lei tutti questi andavano male e il Signore ha detto che cosa avrebbero passato se non si sarebbero ravveduti ma in quella comunità di tiatiri non è che sbagliavano tutti non c'è nessun gruppo di credenti dove tutto il gruppo siano nessuna chiesa locale nessun gruppo di credenti dove tutti siano perfetti a cominciare dal conduttore o chiunque esso sia è così purtroppo dobbiamo ammettere è così quindi hanno le loro mancanze però ci sono anche quelli qui dice Gesù dice questo lo fa notare Gesù perché della chiesa lui considera tutto li conosce tutti quelli della chiesa e quando lui parla di punire qualcuno non è che punisce tutti così indistintamente lui riesce a riconoscere il tipo di errore che è stato fatto chi l'ha fatto perché l'hai fatto quanto è grave quello che hai fatto e nella chiesa c'erano anche quelli che quei peccati non li avevano commessi non avevano seguito la malvagità di quella donna e quindi chi erano questi gli altri no gli altri abbiamo parlato di questi e poi ci sono gli altri gli altri che non hanno fatto quel male e a loro Gesù dice queste parole ma agli altri di voi intiatiri che non professate questa dottrina e non avete conosciuto le profondità di Satana come le chiamano loro ma a me mi pare molto grave non ve lo so spiegare cosa vuole intendere che non hanno conosciuto le profondità di Satana qui sembra quasi che avessero una comunione profonda con Satana anziché con Dio capite era grave quello che faceva ma non è che gli è sfuggito al Signore però c'erano quelli che si guardavano e non lo commettevano tutto quel peccato io dico a quegli altri quindi che non commettevano il peccato non vi impongo altro peso soltanto quello che avete tenetelo fermamente finché io venga e qui vediamo che in un certo senso comprendiamo che il pastore della chiesa di Tiatiri ha fatto un buon lavoro cioè tutto sommato ha fatto anche un buon lavoro solamente che non ha avuto la forza il coraggio o non l'ha capito o si è distratto qualcosa ha tollerato quel peccato di quella donna con gli altri con gli altri capite quella tolleranza di quel peccato non andava bene però prima cosa ha detto gli ha detto che conosceva le sue opere un pastore che fa le opere avrà insegnato anche agli altri a fare le opere capite quindi le parole buone e giuste che Gesù ha detto sul pastore sicuramente possiamo tranquillamente dirlo che il pastore quelle cose lì le ha praticate e le ha insegnate anche agli altri capite quindi quegli altri no i peccatori che seguivano Jezebel e gli altri gli altri gli dice va bene voi non avevano la responsabilità di chi aveva il pastore che ha tollerato che era poi il peccato che Gesù gli ha contestato la tolleranza di quella donna che commetteva peccato gli altri invece che erano semplici fratelli che però avevano imparato sicuramente dagli insegnamenti giusti e corretti che aveva fatto il pastore gli dice non vi impongo altro peso non ve lo impongo non vi impongo altro peso quindi quello che avete imparato quello che avete conosciuto quello che avete praticato continuate a praticarlo fate continuate così non vi fermate questo gli sta dicendo Gesù non vi impongo altro peso cioè non è che vi aggiungo delle cose da fare quello che avete fatto fino ad oggi continuate a farlo non vi fermate questo gli ha detto Gesù a quegli altri può capitare quindi che in una comunità possano convivere questa è realtà un buon pastore che però qualcosa la sbaglia e Dio gliene chiede conto perché non c'è riguardi personali nessuno ci sono quelli che peccano gravemente e ci sono quelli invece che seguono gli insegnamenti corretti che giustamente dovevano seguire senza farsi trascinare nell'errore e frequentano tutti la stessa comunità hanno seguito tutti lo stesso pastore capite è così la chiesa ti attiri questa formata da questi gruppi di persone non vi impongo altro peso soltanto quel che avete tenetelo fermamente finché io venga lo devi devi fare quelle cose fino alla fine le opere preghiere lettura tutto quello che Dio mette davanti da fare tu lo devi fare sino alla fine non ti devi stancare non devi stancarti non devi mollare anche se ti sembra di non vedere la luce in momenti di difficoltà che ti sembra di stare solo Dio è lontano da te non è così te lo dico anche per esperienza non è così a volte il Signore è vicino ma non si fa sentire ma è vicino come fanno i genitori a volte con i figli al parco tu li fai giocare da soli la vista tu non la molli mai io non li mollavo mai a vista va bene non mi distraevo mai vedevo tutti ma loro si sentivano liberi di giocare bene cadevano si facevano anche male battevano la testa si sbucciavano le ginocchia ma io osservavo credo che è una cosa che fanno tutti i genitori controllano ma il fatto che siano caduti si siano sbucciati le ginocchia non vuol dire che noi non eravamo presenti capite fa parte di quel cammino di cui hanno bisogno i bambini di sentirsi liberi che ha un'azione che compiono una disegno può portarli a sbucciarsi le ginocchia mettere la testa su un pezzo di legno di cose lì capite ma non è che i genitori erano lontani si lo so che può essere qualche genitore che non si interessa io sto parlando di genitori che si interessano dei figli e il Dio è un genitore è un padre che si interessa dei figli non è che li ha lasciati sbandati quindi se voi siete nel parco della vita e state navigando e non vi e non vi sentite la mano sulla spalla non dovete sentire la mano sulla spalla l'importante è che ci siano gli occhi del nostro padre celeste puntati sempre su di noi affinché sì ci possiamo sbucciare le ginocchia ma non ci viene a portare via nessuno capite le ginocchia ce le sbucciamo la testa la sbattiamo perché purtroppo a volte siamo anche due quindi qualche volta la sbattiamo perché la vogliamo sbattere ma se siamo fedeli al Signore non ci porta via nessuno non viene nessuno a portarci via non possono portarci via perché gli occhi del Signore sono su di noi quindi attenzione non vi scoraggiate non vi abbattete anche quando vi sembra voi volete sentire sempre presi per mano camminare e no purtroppo non è così ci lasciano liberi perché dobbiamo imparare determinate cose liberi ma abbiamo una sorta di distanza capite sempre sotto controllo non abbandonati ma liberi è un'altra cosa perché dobbiamo imparare determinate cose quindi non vi sentite abbandonati perché non è così è una menzogna io se non vi dico questo anche io sbaglierei e voi se lo pensate state sbagliando state sbagliando non è così forse non vi sentite che siete state camminando come qualche volta si è visto rappresentato sul web qualcuno dice che è vero è così ma signore nei momenti difficili della mia vita io non vedo le tue orme hai camminato sempre vicino a me e nei momenti difficili sembra che sei mi hai lasciato da solo no non è così è una rappresentazione ma però colpisce cioè fa riflettere e se no quelle orme che tu vedi sono le mie ti ho preso in braccio in quei momenti difficili della tua vita che ti pensi che io ti abbia lasciato tu eri nelle mie mani nelle mie braccia non ti ho lasciato non ti ho lasciato e quindi non è giusto pensare che il signore ci lasci il signore ci lascia se noi ci induriamo e non ascoltiamo le riprensioni se lo rinneghiamo se ci induriamo nel peccato e dobbiamo commettere però mica uno o due così leggeri stiamo parlando di cose pesanti come quelle di Jezebel è lì che il signore ci abbandona nei peccati commessi pesanti quando ci chiamano al ravvedimento e noi diamo il nostro cuore ecco lì che possiamo essere abbandonati per lo sviamento ma se no sappiatelo il signore non ci abbandona siamo nelle sue mani siamo nelle sue mani ci sbucciamo le ginocchia e sbattiamo la testa questo questo è vero perché si vede che dobbiamo imparare determinate cose allora a chi vince e persevera nelle mie opere qui pone la condizione di cui parliamo sempre cosa vuol dire bisogna vincere dobbiamo arrivare sino alla fine sapete legare come fa quando tu arrivi che c'è la meta un pezzo di stoffa lì che tu lo devi abbattere correndo dobbiamo arrivare sino al traguardo rimanendo fermi nella fede praticando le buone opere e facendo tutto quello che piace al signore solo al traguardo tutto sarà conquistato definitivamente fino a quando noi non vinceremo e non attraverseremo il traguardo c'è sempre il pericolo di uno sviamento e di una perdita della salvezza perché noi creiamo anche che la salvezza si possa perdere per questo che c'è continuamente l'esortazione nelle scritture di arrivare sino alla fine perseverare sino alla fine di vincere perché vincere vuol dire che c'è una resistenza vincere vuol dire che stiamo combattendo una guerra una battaglia vuol dire che dobbiamo resistere vuol dire che c'è qualcosa che resiste al nostro cammino verso la nuova Gerusalemme celeste capite e dobbiamo vincere ogni resistenza ogni opposizione tutti i nemici che si mettono in mezzo alla nostra strada le folle gli eserciti ombre demoniache di tutti i tipi tutti i generi noi dobbiamo andare fino alla fine si sta aspettando la vita eterna e questo il Signore ci dice che dobbiamo vincere attenzione sarà una guerra sino alla fine sarà guerra affilate le armi la spada dello spirito tenete lucidi i vostri scudi della fede tutta l'armatura che Dio ci ha stabilito che noi avessimo perché siamo in guerra non stai prendendo il sole in vacanza su questa terra e quindi devi essere ci riposeremo dopo va bene vi riposerete dopo però adesso non è tempo vuoi riposo ti senti stanco non è tempo hai l'eternità per riposarti l'eternità adesso devi lavorare devi faticare capite capite adesso non ti puoi stancare non puoi mollare anche se un attimo ti senti stanco puoi rifiatare certo come in salita stai camminando ti senti stanco ti fermi un attimo bevi un po' d'acqua respiri meglio e riparti però non è che puoi stare fermo seduto sulla pietra lì sempre no il riposo deve avere giusto ricaricare un po' quello va bene ci sta ma qui non avrai un riposo che dura chissà quanto sei in guerra lo scudo lo deve avere lucido sempre pulito sempre pronto ad essere utilizzato lo scudo della fede la spada dello spirito la parola di Dio e tutto il resto che c'è che Dio ha stabilito deve essere sempre tutto pronto e tutto lucido pronto alla battaglia perché siamo in guerra non siamo a riposo ancora a riposo ci entreremo va bene e abbiamo l'eternità di riposo adesso sono questi anni di vita che Dio ci dà che sarà una battaglia totale su tutti i fronti quindi preparate io voglio che voi mentalmente siate preparati quindi forza forza non vi scoraggiate non vi abbattete andate avanti lucidate le vostre armi e si va avanti non sto dicendo che è facile io non sto prospettando cose facili però vi dico questo dobbiamo portare il carico dobbiamo portare il carico che è quello che il Signore ci ha imposto perché comunque o porti il carico del Signore o porti il tuo di carico da solo e il tuo carico è peccato il carico del Signore è per dare gloria a Lui quindi il carico del Signore i Suoi comandamenti ci aiuta a parli ci aiuta diventa più leggero se no se non vuoi quel carico te ne prendi un altro che è quello del peccato della vita dissoluta di tutto quello che succederà di quello che succede a Jezebel vuoi quel carico quale carico vuoi portare diglielo al Signore non a me al Signore lo devi dire Signore quale carico vuoi portare il Signore ti chiede oggi adesso quale carico vuoi portare quello del Signore dell'osservanza dei Suoi comandamenti dell'essere fedele del vincere il male con il bene di non cambiare il male con il male e tutto il resto oppure vuoi caricarti di nuovo del peso del peccato di vivere quanto può durare la gioia di vivere nel peccato dura un attimo poi sei carico l'ira di Dio sarà sopra di te se abbandona il Signore è quello il carico che vuoi portare e lì non ti aiuterà nessuno a portarlo invece il carico del Signore è leggero alla fine è leggero perché ci aiuta Lui a portarlo però è un carico non possiamo dire che non lo è è un carico è un peso da portare e lo dobbiamo portare perché è giusto è giusto che sia così chi persevera nelle mie opere sino alla fine io darò potestà sulle nazioni a cosa si riferisce qui vi ricordate anche in Timoteo è scritto certa è questa parola secondo Timoteo 2 11 certa è questa parola che se moriamo con lui con lui anche vivremo se abbiamo costanza nella prova con lui altresì noi regneremo vedete anche qui noi darò potestà sulle nazioni perché quando ci sarà il millennio che inizierà il ritorno del Signore Gesù Cristo noi regneremo con Cristo per mille anni su questa terra quindi regneremo vedete regneremo proprio perché la terra ancora non sarà distrutta ci saranno i regni e non regneremo Gesù assegnerà delle varie città e regni saranno dati a regnare ai suoi figlioli che saranno rimasti fedeli sino alla fine e qui Gesù lo ricorda ed egli le reggerà con una verga di ferro frantumandole a modi vasi d'argilla come anch'io ho ricevuto potestà dal padre mio e gli darò la stella mattutina che a orecchio ascolti ciò che lo spirito dice alle chiese vedete qui è lo spirito santo che parla alle chiese quindi è parola a Dio quella che abbiamo letto ed è stato detto a Dio a Dio Grazie a tutti.